Musica Anche mangro a San, se siete da voler conto in Zimbari? Verte di ricercatrice Giorgia De Carli, voi da Università Votria, e invece il suo compito e il lavoro, ciò che ha messo la cultura della città e la cultura di scuola. La città è stata un po' di 5 anni in questa città. E lui ha detto, che ha detto, che il suo compito è stato lavorato, che gli amici e gli esperti, che anche i nostri figli hanno la cultura e la cultura. Il suo lavoro ha iniziato a scegliere le tue persone di Trentino, Zimbar e Berchenthal, in le scuole di Lentr in Zimbar e di Berchenthal. Nel 30 novembre, in la facoltà dell'Università di Giorgia De Carli, in cui alcuni professori e studenti ha scegliato il suo lavoro. La ricerca è nata con l'obiettivo di fare il punto della tutela delle minoranze trentine nelle scuole, delle minoranze storiche, locali in particolare. Si è concentrata principalmente sulla minoranza cimbre e sulla minoranza moccana per il fatto che sono minoranze più deboli, non hanno una rappresentanza politica e sono anche numericamente più ridotte. Si è svolta principalmente attraverso il metodo etnografico e quindi ha visto la mia presenza sul territorio e dentro le scuole per un periodo prolungato di tempo, nel caso di Luserna e di Lavarone. Mi sono recata sull'Altepiano per quasi cinque mesi, quattro mesi almeno. Sono entrata tanto nella scuola dell'infanzia di Luserna quanto nella scuola primaria di Lavarone. In qualche modo è stato possibile concentrare la ricerca su tre domini principali che sono chiaramente quello scolastico, ma anche quello familiare e quello politico. A carattere generale si può dire che nelle scuole si sta facendo molto. C'è un forte impegno. Le insegnanti sono devote alla causa, credono nell'importanza della tutela, però esistono ancora delle difficoltà. Delle difficoltà che emergono a livello burocratico-amministrativo, ad esempio, nel reclutamento del personale, oppure anche nel recuperare, nell'individuare degli spazi dove la lingua di minoranza può essere imparata ed usufruita senza necessariamente agganciarsi ad altre lingue ritenute ad avere più prestigio, mettiamola così. Inoltre, alcune difficoltà ci sono anche a livello di comunità più estesa. Nel 5 settembre del Culturinstituto Luzerno, l'autorità in cui la provincia Votria è stata accettata con il professor Geremia Gios per il Bürgermeister del Culturinstituto Luzerno e per il Documentation Centro Luzerno. Il risultato ha avuto il progetto per intervenire e parlare in un'attività in cui si può essere un'attività come lavoro e una firma per aiutare la città e la città. L'autorità ha ritenuto opportuno organizzare degli incontri con le due comunità, quella Cimbra e quella Mocchina, quelle che hanno i maggiori problemi sotto il profilo dello sviluppo, perché sono comunità anche piccole, per cercare di approfondire un po' questo discorso che si fa da qualche anno anche con la provincia. noi abbiamo compito di sollecitare, non siamo certo parte attiva diretta, quello di un piano di sviluppo socio-economico. Cioè è pacifico che una comunità piccola come questa anche di Luzerno, se non ha una prospettiva di sviluppo, di assicurare reddito e vita alla sua comunità nel suo paese, il rischio che sparisca la lingua, la cultura e le tradizioni è molto forte insomma. E quindi alla luce di questo abbiamo ritenuto di organizzare questi due incontri, siamo qui apposta questa sera, per cercare di ragionare con il sindaco e con l'istituto culturale del quale siamo ospiti, e qui a Luzerno col centro di documentazione, per vedere in attesa che venga fuori questo piano di sviluppo socio-economico così che dovrebbe essere portato avanti dalla provincia con la collaborazione degli enti locali, di vedere se è possibile muoversi per andare a verificare le iniziative concrete e reali, che ci possono già essere adesso, cercare di mettere assieme queste iniziative, dare una mano da parte degli enti comune e quindi di istituto culturale eccetera, per intervenire poi sulla provincia anche per trovare le forme anche di sostegno finanziario. Insomma quello di partire un po' velocemente è su questo anche che il professor Gios, che ha buttato lì in Polidea, ci dà una mano che stasera sarà qui con noi e quindi sentiremo anche da lui, che ha agito direttamente anche nel suo comune in Vallarsa, come ha fatto concretamente, come ci si può muovere insomma. Aspetta da Bild di tradizione, Hayro, in di Nacht, Spischen und Spölf und Dreizen e von Krishmon a Dezembre, ist a Zuharkent di Santa Luzia, un aspetta leggera a Zeeppas getrach in unser Klumman Kinder. Aspessat oggi hilfte zu tünkla, di kinder, leise leise, so in ausgespitza, wun bene bollont, un so in se gewuntet alle pinnondar in Plaz, bo da bine spetar, ist a gerifte, lugart in so i armes gerüschta, di Santa Luzia. Di saggiare, so hell vanarzians karetle, a par stache, chunt, wo schnera. Un Plaz, da neige pro loco, worslont, hat borrote teppas zessa, un so trinta, voralle di l'alp, bo da so in suan gott. musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.